Salve traders, come va? Qua un'altra volta con voi, Eric Munoz in Lion Burr Academy Oggi continuiamo il nostro cammino verso il mondo delle criptomonete, il Crypto World, Crypto Impero Però volevo parlarvi di un altro gioco NFT Play to Earn Perché quello che avevamo visto l'altro giorno, Tiny Hero, attualmente ingiocabile Dovuto alla grande commissione che c'è dentro la rete di Polygon, perciò per adesso lo lasciamo stare Ancora c'ho il mio pupazzino, il mio NFT mostruo per giocarci, non lo vado a vendere per adesso Voglio vedere se nel futuro ancora si può essere utilizzato o no, se no poi ce lo leviamo nel mezzo Già andremo a vedere nel futuro cosa succeda Però oggi volevo parlarvi di un altro gioco Play to Earn che sta dando molto di cui parlare Sta facendo una polemica enorme, soprattutto perché non tanto tempo fa, proprio giorni fa Si facevano soldi appalate, adesso è scena tantissimo la possibilità di fare soldi Ma vi posso spiegare che se riusciamo a solventare quei problemi che stanno succedendo adesso in questo gioco Potrebbe diventare un'alternativa, un'altra entrata di soldi per noi a cui piace investire E cercare nuove forme di riuscire a sopravvivere in questo mondo Parliamo del gioco Sunflower Farmers Chi l'aveva trovato all'inizio in agosto quando era uscito ci ha fatto un sacco di soldi Quelli che sono entrati adesso ancora possono fare bei soldi Però dovuto ai bot, gli spam di bot e gli aumenti nelle commissioni dentro la rete di Polygon Che stanno ostruendo la rete di Polygon E' sceso tantissimo il guadagno che si può fare E volevo un po' parlarvi del giochino e della strategia che sto utilizzando anche io adesso Che la stanno utilizzando si può dire quasi tutti Per poter almeno farci un piccolo guadagno al giorno Che non è neanche male Non è tanto però non è neanche male Andiamo un po' a vedere che cos'è Allora, l'unico che fate qua Come si vede nel disegnino E' un gioco 2D dove si investiranno in semi In questo caso parliamo del primo che viene utilizzato i semi di girasole Ci sono altre piante però parliamo del girasole all'inizio Poi vi spiegherò anche in dettaglio il resto E li piantiamo Una volta sono germinati Li riprenderemo e faremo il doppio di quello che abbiamo investito I semi si comprano con il token chiamato Sunflower Farmer Token Che attualmente ha un supply di 2.461.000 E che va crescendo Ogni volta arriva a un certo numero di token Fanno un halvening Che cos'è un halvening? E come succede nella piattaforma di Bitcoin E' più difficile da prendere questi token Sarebbe a dire se prima guadagnavi Ogni volta che Che ne so Che piantevi una pianta Ci guadagnavi un centesimo Vabbè, 10 centesimi Dopo fatto questo halvening Ci guadagni la metà Di quello che guadagnavi prima Se erano 10 centesimi Guadagnerei 5 centesimi soltanto E ogni volta che vanno un halvening Sempre vanno dimezzando Il guadagno che puoi fare Questo fa Cosa succede? Che c'è Meno unità In giro E dovrebbe far salire Il valore del token Perché è più complicato Allora dovresti uno investire Ogni volta più soldi Per poter farlo Per quelli che appena iniziano Dovrebbero investire Più rinano Per poter entrare Secondo quello che vedo io Loro lo fanno A che così Sempre tengono basso Il livello di entrata Che con pochi euro Puoi entrare Allora La parte principale E' farming del token Sarebbe a dire che Ogni piantina Di queste che fate Realmente quello che state facendo E' creare Un'unità di quel token Che potete poi cambiare Per Matic O per USDT O SDC Gli halving event Già ve l'ho spiegato Che ogni volta che Arrivano un certo numero Di unità In circolazione Lo fanno più difficile Che sia Da fare Creare nuove unità Così Danno un po' più vita Al gioco Perché il gioco Come ben sapete Se Si creano Ogni volta più unità Cosa fanno Attualmente Se si creano più unità Succede come Con il dollaro Con l'euro Più unità in giro sono Diventa un attivo Inflazionario L'inflazione Comincia ad avere effetto E il token dovrebbe Scendere di valore Però se Allo stesso tempo Diventa più difficile Farli crescere Sarebbe a dire Che fanno una specie Di Leva Un po' di livellare La caduta Del prezzo Questo farebbe Anche alle persone Pensare che Nel futuro Ci saranno meno quantità In giro Potresti comprarne Per nel futuro Aspettare Di guadagnarci Con il movimento Del prezzo Al rialzo Un'altra cosa Interessante Che hanno E che sono Open source E estensibile Sarebbe a dire Che hanno Una zona Dove possono Essere creati NFT Diventa anche Un NFT marketplace Dove tu puoi creare Parti Visuali E programmare Il proprio NFT Dentro il gioco Che potrebbe essere Messo in vendita Perciò E' anche una cosa Interessante Come terza Come quarta cosa Anche di interesse C'è il reward For holders Chi Non vende Il suo token E lo mantiene Ogni tre giorni Scusate la bocca Ogni tre giorni Riceverà Una cassa Con dentro Penso Dei sunflower Token Ancora non ho ricevuta Questo va a essere Oggi Se non mi sbaglio Dovrebbe essere Il mio terzo giorno No Domani Dovrebbe essere Il mio terzo giorno Esatto Perché adesso sono I Sto pomeriggio Mi finisce il secondo giorno Perciò Stasera Domani mattina Dovrebbe essere Il mio terzo giorno E appena mi arrivi Uno faccio Uno schermata E lo condivido Nel gruppo di telegram A tutti voi E vediamo Quanto ci danno Per essere Al livello 3 Perché sono Al livello 3 Della 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 fattoria C'è la sezione Risorse Dove ogni persona Può anche Fare risorse E guadagnare Penso anche Qualcosa con quello Ancora non sono Arrivato a quel livello Non saprei dirvi Però Si posso anche fare Il Roadmap Noi siamo già Tutto questo L'abbiamo già fatto Siamo già nel 2022 E vorranno fare Il mobile support Sarebbe a dire Che potremmo utilizzarlo Anche col cellulare Che per adesso È soltanto possibile Attraverso Del Modo Desktop O attraverso Del computer Andiamo adesso Un po' a vedere Dentro Cos'è che ci serve E cosa dobbiamo fare Per poter cominciare Allora Una volta Entrate qua Aspetta che levo il suono Una volta Entrate qua La prima cosa Dovete schiacciare È get started Se voi non avete ancora Siete all'inizio Non l'avete mai fatto Vi apparirà un'immagine Dovete donare 0,1 Matic Allora vi servirà Avere Una wallet Di Metamask La migliore Vi consiglio Di utilizzare Metamask direttamente Più facile Da Più facile Da utilizzare Dovrete comprare Matic Su Binance Per esempio Mandarveli Alla vostra Metamask In questo caso Io vi consiglio Di mandarvi Almeno Due Matic Sarebbero Attorno a 4 euro Quello sarebbe L'inizio Per poter giocare Per pagare Le commissioni Allora Dovete donare 0,1 Matic Che sarebbero 18 centesimi Per poter Partecipare All'inizio Questa donazione Va a Una delle società Che aiutano A migliorare Il mondo Tipo Per pulire Gli oceani Per stare attenti Al cambio climatico Perciò Una cosa carina Che mi sembra interessante Secondo Una volta fatto quello Vi verranno In donazione 5 piantine Qua Se non mi sbaglio Erano 5 Che sarebbero 5 piantine Di queste qua Della Sunflower In totale Vi regaleranno 5 piante Del valore Di 0,0002 SFF Va bene Quello sarebbe Il valore Che hanno Quelle piantine In quel momento Se volete Ripiantate Vi daranno Sarebbe Di loro Reinvestite Quegli SFF Vi daranno 0,0004 SFF Al seguente E così via Piano piano Andate crescendo I vostri SFF Sarebbero I vostri Sunflower Token Si E' bello E quella che Dà più soldi E questa E' la verità Perché Più veloce Ogni minuto Ce l'hai Poi C'hai la patata Che te lo dà Ogni 5 minuti Da 0,002 Ti da 0,0032 Perciò che Questa dà Tantissimo Però C'è un problema In questo tipo Di investimento E che Il gioco Ogni 30 minuti Devi salvarlo E per salvarlo Consumi Matic In questo momento Il Matic E alle stelle Stanno andando alle stelle E la commissione Il giveaway E ti può costare Stare una salvazione 40 50 60 centesimi Anche un euro Se siamo in un brutto periodo Allora Non è Profittabile In quel senso Perderete Soltanto soldi Quello che E' più Profittabile Al momento E' Di attualizzare Il gioco Fino al livello 3 Che vi costerà 1,2 SFF Il sunflower token E in quel caso Potrete Ehm Prendere i semi Dila Del cauliflower Della Cavolfiore Si in italiano Cavolfiore Che vi darà Ogni 8 ore 0,16 SFF Allora in questo caso Quando cominciate A livello 1 Avete a disposizione 5 posticini A livello 2 Della fattoria Avete altri 3 in più E a livello 4 Altri 3 in più Non ho comprato Il livello Questo è livello 3 Livello 4 Non ho comprato ancora Livello 5 neanche Perché? Perché non Mi conviene al momento Mi costa 10 SFF Per averne un altro in più Che non lo vedo io Per adesso Molto interessante Anche se il valore Del sunflower token E' andato giù E siamo al valore di 1 Poi vi spiegherò adesso In un attimino tutto Allora Piantate questi sunflower Questi sunflower Sì scusate Questo cavolfiore Lo piantate Una volta piantato Subito Subito dopo averlo piantato Si asciate su salva Per salvare Vi consumirà Da 0,1 A 0,6 Matic Che può essere Da 10 centesimi A 60 A 1 euro Dipende E una volta salvato Potete chiudere L'applicazione E tornare dopo 8 ore Come vedete A me ci sono passate 4 Ci ho scritto 4 ore Mi mancano Allora Dopo passate le 8 ore Potete ritornare Riprendere Il vostro beneficio Di quello che avete investito Ripiantare un'altra volta E salvare nuovamente E andare via Per altri 8 ore Dopo aver salvato Potete sempre chiudere tranquillamente Allora In questo caso Vi farò vedere adesso Quanto si potrebbe guadagnare In questo modo Allora Come per adesso Siamo a meno di 5 milioni Di token in circolazione Ci abbiamo Il cavolfiore A livello 3 Che sono 11 posti Mettiamo anche la transazione Che vorrei farvela vedere E il Matic Cosa 0 0 Virgola Mettiamo 10 per adesso Va bene Allora Salviamo 2 volte Al giorno Facciamo 8,8 16 ore Che è il tempo Che penso che faremo 2 volte al giorno Il valore attuale Del token È di 1 dollaro Allora Staremo guadagnando Al giorno 2,21 Centesimi Di dollaro Questo è quello Che staremo guadagnando Pagando già le commissioni 3 giorni fa Il token Era arrivato A 6 dollari Avremmo fatto 15 dollari Per Al giorno Impressionante 3 dollari Al giorno A livello 3 Se avremmo fatto L'ultimo livello Faremo 24 dollari Al giorno Ok Adesso Quello che voglio farvi vedere Prezzo attuale È di 1 2 dollari 2 dollari Se fra un paio di giorni Passiamo I 5 milioni Di token Che arriviamo A 10 milioni Staremo guadagnando Solamente 0,89 Centesimi Ancora Profittabile Ma sono 89 centesimi Al giorno Se passiamo Al seguente livello Saremo guadagnando 1 con 25 E se passiamo Già all'ultimo Saremo guadagnando Più o meno Lo stesso Che guadagnavamo Quando eravamo Al livello 3 E Eravamo sotto i 5 Va bene Più o meno Un pochettino di meno Allora Che succede Quando arriveremo A Che avremo Meno di 10 milioni Ma più di 5 Speriamo Che il livello Del token Aumenti Almeno a 4 E faremo ancora soldi O a 2 Al doppio E faremo sempre lo stesso Questo dipende Normalmente il halvening E' stato fatto per quello Per far crescere Il valore del token Così Speriamo Di poter Ancora Poterci Guadagnare qualcosa Allora Adesso spieghiamo Che cosa sta succedendo A questo gioco Perché è così Complicato giocarci Adesso Vi faccio vedere qua Nel Polygon Scan Il gas tracker Il gas Del polygon E' andato alle stelle Dovuto a questo gioco Esattamente Che sarebbe questo qua Il primo Qua è il contratto Di questo gioco Che già c'è il 40% Delle transazioni Fatte da Tutta la rete di Polygon Vengono da questo gioco Allora li sta facendo Perché ci sono tantissimi Bot Tantissimi robot Che stanno facendo Le patate Che si fanno ogni 5 minuti Senza fermarsi Allora ogni 30 minuti Fanno Salvano 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 Ogni minuto Salvano 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 Per Fare il più numero Possibile Di sunflower token Fuori Allora questo sta facendo Aumentare il prezzo del gas Che diventa inviabile Poterci giocare E incluso inviabile Poter utilizzare la rete di Polygon Già ci stanno lavorando Ho parlato con I creatori del gioco E stanno lavorando A una soluzione Ancora non ho trovato bene Quale Ma stanno lavorandoci Speriamo Io gli ho dato come Spunto Se diminuiscono Le multi account Perché ci sono tanta gente Che usano multi account Adesso vi faccio vedere Per esempio Immaginate A livello 3 A meno di 5 Col valore del token A 1 Vediamo per adesso Il valore del prezzo Del Il valore del token Era normalmente Si era diventato stabile A 4 Allora C'ha 20 conti A 10 dollari L'uno Già vi potete fare A voi i conti 200 dollari Guadagnati Con questo gioco Al giorno Questo è quello Che stavano facendo Un paio di giorni fa Le multi account La gente che aveva Tanti conti Allora Normalmente Certo Se tu adesso C'hai 400.000 conti E ti metti a giocare Tutta la gente Comincia a farne Un sacco di conti Abbiamo questo problema Che c'è troppa gente Troppo movimento Dentro la rete E ci fa bloccare Questo gioco Peccato Perché si può guadagnare Tantissimo soldi E Dopodiché Che è successo Quello Che è successo Che il token E' sceso Di una forma Esagerata E' sceso Veramente Tantissimo Da 6 dollari Che eravamo arrivati A 6 dollari E' sceso Tantissimo Siamo a 1 Perciò Una discesa Impressionante Il token Il token Non è da tanto Che era uscito Perciò Ha cominciato Il token Uscendo Al valore Di 0,05 Dopodiché Era salito Un po' Poi è risceso Non normale E poi Dopo il 28 Di dicembre Che i youtuber Hanno cominciato A parlare Sul gioco Ha fatto Uno schizzo Enormemente alto Sono cominciato A entrare Bot E il prezzo E' salito Tantissimo E' salito Fino alla zona Di 6 dollari Allora normalmente Se io sono uno dei primi Che sono entrato E sto accumulando I miei sunflower token E mi sale su A 6 dollari Ho fatto Un sacco di soldi Che faccio Chiudo Normalmente Prendo i miei sunflower Li passo a Matic E ci faccio quel gagno Normale che ci sia Questa discesa Così grande Adesso Ho arrivato Un'altra volta A meno di uno Era arrivato A 0,70 Io sono un inversore Cosa faccio io Arriva a questo discesa Così grande E Sono convinto Ancora del progetto Prendo e ricompro Allora il prezzo Risale un'altra volta Normalmente Se tutti ricomprano Il prezzo Risale E un'altra volta Mi arriva a 6 Madonna A 0,70 A 6 dollari Un'altra volta Che faccio Richiudo È normale C'è un sacco di soldi E così è quello Che è successo Per adesso Poi in più Con il food Che sta succedendo Di che il gioco è uno spam Tutto il casino E la gente comincia A avere paura Normalmente Il prezzo scende In più Stanno aumentando La quantità Di token Avviabili Che adesso Sono 2.444.5.859 E normale Che il prezzo Sia in discesa Dobbiamo soltanto Aspettare A vedere Se si stabilizza Questa situazione Si mette a posto Se riescono a risolvere Questo problema Questo gioco Ancora C'ha tanta vita Davanti Se invece Continuiamo Con questi robot E roba Il gioco È finito Perciò Bisogna A vedere Quello Io per adesso Come l'investimento Non è È un investimento Molto rischioso Però cosa ci si è investito 10 euro C'è un conto io Un conto mia moglie Quello che abbiamo fatto Neanche vado a fare Il multi account Perché non lo vedo Giusto Se tutti Ci mettevamo D'accordo Facciamo bene le cose E avere da 2 a 10 dollari al giorno Io sono contentissimo Per avere quello Posso sempre reinvestirlo Farmi più grandi La mia fattoria E guadagnarci di più Noi cominciare a fare Anche gli NFT E guadagnarci di più Perciò Invece di essere tutti Volere così tanto I soldi Come stanno facendo Questi robot Che pensano di uscire Il massimo possibile Nel minor tempo possibile Io guarderei più Il suo Guarderei più A lungo termine Cosa potrei farci Se il gioco va bene E comincia ad avere Meno quantità Fanno bruciature Come stanno parlando Potrebbero bruciare Più di quello Che si viene creato E questo Farebbe Aumentare il prezzo Del token Perciò Sarebbe una bella cosa Per quelli che Cominciano soprattutto Primi Per adesso siamo ancora A meno di 5 milioni E è un momento buono Per almeno aprirsi La fattoria Che costa poco E accumulare Un po' di questi Sunflower token Io ho provato a comprarli Anche qua manualmente Però attualmente La rete di poli Non è così intesata Che non si può neanche comprare Io volevo comprare Tokens Non c'è stato Verso Sto aspettando Che si Calmi un po' La situazione E voglio fare Un investimento Di almeno Che ne so 50 dollari In token Di sunflower Per averli lì Casomai Andasse bene Una perdita 50 dollari E niente Però il guadagno Potrebbe essere Molto Molto succulento Va bene Già sapete un po' Cosa è il sunflower Come si gioca La strategia Che sto usando io Dei cavolfioli Ricordate Ogni 8 ore Bisogna soltanto farlo Facile Si spende il meno possibile E già Come potete vedere Qua c'ho 11,79 5 sunflower token Che automaticamente Vanno alla tua wallet Se avete qualche dubbio Non sapete come installare La metamask Me lo scrivete sotto Nei commentari Vi preparo un video Come si installa La metamask Come si mette la polycom Ve lo faccio un video A parte solo per quello E se non sapete Come comprare Sunflower o Matic Me lo scrivete anche E vi do una mano Anche a quello Faccio anche un video Specialmente per quello Anche se ce ne sono Tantissimi video in giro Però se veramente Vi serve E non riuscite a capire Nessun altro Me lo dite E vi do una mano io E non ho ancora Aperto Gli altri due Perché Hanno detto Quando fanno l'upgrade Quando Il halbin Arriva ai 5 milioni I prezzi di tutto Va alla metà Anche Includendo L'upgrade Perciò Se adesso costa 10 sunflower token Fra un paio di giorni Mi costerà 5 Allora preferisco aspettare E farmi così L'upgrade Questo e questo Insieme Dai Spero vi sia piaciuto il video Qualsiasi dubbio Me lo commentate al di sotto E Niente Spero vi sia di aiuto E per adesso Calma Non mettete tutti i soldi qua Non vi consiglio di fare Il multi account Che è quello che stanno consigliando A tanti Non lo fate per adesso Soltanto uno spreco di soldi Prima di tutto E vedere cosa preparano I programmatori Se almeno ci danno un limite Che ne so A 2 3 multi account Allora è quando potremo Già avere una cosa decente Di 2 3 multi account E basta Va bene Dai grazie per aver visto il video E qualsiasi cosa Sono sempre qua per voi Ricordate Che avete il canale di telegram Dove potete sempre parlare con me Direttamente Sotto nella descrizione E se volete comprare i token Di LionBull Academy Per aiutarmi a creare Il nostro proprio Play to earn Basato sugli investimenti Basta che andate Su LionBullAcademy.com LionBullAcademy token Con la metamask Potete andare su Buy E comprare i token Di LionBullAcademy Che attualmente Costano 0,007 Matic Un token Va bene Sono bastante economici Se volete partecipare Alla beta Sono 5.000 token Che sono 35 Matic Che sarebbero attorno A 60 euro Se non ce l'avete tanti Basta che partecipiate Con quanto volete E troverò il modo Di poter far tutti entrare La versione alfa E in beta Anche tutti quelli Che vogliono entrare C'è sempre un modo Di poter entrare E di aiutarci tutti Dai Grazie un'altra volta Ricordate tutto Questo è grazie Al merito vostro Dai ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi